Presidente, lo dico subito, così chiariamo le regole di ingaggio. Oggi sono qui a parlare, e mi rivolgo anche a lei, Ministro, da pugliese, da cittadino andriese, perché lo do per sottinteso che siamo italiani qui dentro, non ho bisogno di manifestarlo. Volevo subito chiarire che volevo portare qui dentro la rabbia, ma probabilmente dopo averla ascoltata vorrei dire un termine molto più pesante, ma non lo voglio dare questo gancio, perché magari poi ci si concentrerebbe su quel termine e non magari su quello che lei ha detto. Oggi stiamo parlando qui dentro di una tragedia che probabilmente si potrebbe definire ridicola, se non fosse infame per quello che è realmente accaduto. Ministro, io sono d'accordo con lei sulla grandissima catena di generosità e solidarietà messa in piedi dai pugliesi, che in tutta la Puglia hanno donato sangue, si sono addirittura prestati nelle catene di volontariato i medici, gli infermieri. Ma sappiate che quella catena di solidarietà si è dovuta fare perché nel nuovo piano di riordino ospedaliero pugliese fatto dalla maggioranza di centrosinistra, quegli ospedali nei quali adesso voi avete portato i nostri cittadini feriti e morti verranno chiusi a breve, verranno chiusi e non ci saranno nemmeno più presidi ospedalieri nei quali poterli portare. Ma voglio aggiungere anche un'altra cosa, Ministro, perché forse questa è un'altra storia. Parliamo di una tragedia che è accaduta nei confronti di pendolari. C'era anche un funzionario dello Stato, c'erano dei cittadini, degli studenti. Quella è una ferrovia che viene giustamente utilizzata all'interno di quell'area per spostamenti che sono tipicamente fatti da pendolari e da lavoratori. Allora io, quando ascolto le sue parole nei confronti di quelli che sono stati gli investimenti in questi due anni nei confronti delle ferrovie regionali, io dico, ma lei ha mai preso un treno regionale, Ministro? Ma l'ha mai preso, perché io l'ho preso. L'ho preso da studente universitario, l'ho preso da lavoratore e sono stato quasi felice che questa tragedia sia accaduta oggi e non in inverno, altrimenti sarebbe stata una strage ulteriore, perché in quei treni ci vanno in piedi, ci vanno senza aria condizionata, ci vanno senza alcun criterio di sicurezza. da anni. Ma voglio andare proprio su di lei, Ministro, perché in qualche modo nel suo discorso, Ministro, lei ha detto che non sta scaricando le responsabilità. No, Ministro, lei è il primo responsabile politicamente di questa tragedia. Sa perché? Le dico una data. State in silenzio, per cortesia. Come vi abbiamo ascoltati noi, ci vediamo di ascoltare. Allora, scusate, colleghi, è la Presidenza che invita al silenzio. Grazie, Presidente. Sì, no, per cui lei proceda con il suo intervento. Grazie, Presidente. E vi faccio cortesemente recuperare questo tema. Per favore, colleghi, siamo al tema. Le dico una data, Presidente, Ministro, 12 giugno 2013 viene depositata un'interrogazione parlamentare in cui si parla proprio di quel tratto di ferrovia, a mia prima firma. Lei ha avuto tre anni per rispondere, non ho mai ricevuto risposta. È vero che prima c'era Lupi, ma lei non ha mai risposto a quell'interrogazione. Il silenzio vero è stato su quello nel quale le si chiedeva. Qui ci si sta renando, qui i lavori non partono. È una progettualità presentata nel 2007, che è stata finanziata nel 2012, che doveva partire il primo gennaio del 2013. E invece ci troviamo oggi ad aver traslato, come lei ha detto, in realtà sono persi quei soldi spostati su un'altra tranche di finanziamenti europei. E ci troviamo di fronte alla tragedia. E quando c'è la tragedia, come al solito avviene in Italia, adesso partiranno i lavori, adesso accelereremo, adesso creeremo una commissione. Ministro, lei che lavora, ha detto a fianco alla Regione Puglia, doveva lavorarci già dal 2015, perché il sottoscritto ha chiesto nel 2015 alla Regione Puglia un documento nel quale chiedeva lo stato di avanzamento dei lavori. E la Regione Puglia, a me parlamentare, figuriamoci a lei, Ministro, diceva, guardi che io ho dato tutti via libera, non so perché le amministrazioni locali sono completamente bloccate e non vanno avanti nella canterizzazione dei lavori. Io mi chiedo, così come ho fatto nell'interrogazione, perché lei adesso è a fianco e non lo era prima a fianco agli enti locali? Sa perché? Perché voi siete a fianco agli enti locali, ai politici, a Emiliano, a chiunque sia, ma non siete a fianco ai cittadini, non siete a fianco ai cittadini, prendetelo una volta quel treno, capite qual è la vita all'interno dei treni pendolari, ma non solo in Puglia, perché potremmo fare uno scenario devastante della Puglia, ma di tante altre regioni italiane, dove voi invece andate ad investire in progetti faraonici che non servono a nulla, lo dice il rapporto di Lega Ambiente, e abbiamo ferrovie in tutta Italia che fanno vergogna. E la voglio smentire in questo momento. Mentre lei dice che stanno investendo, il Governo sta investendo su queste ferrovie, qualche giorno fa, Ferrovie dello Stato ha cancellato la tratta Roma-Taranto. Ha cancellato la tratta Roma-Taranto. Questi sono i fatti, l'ipocrisia vostra delle parole. Lascia il tempo che trova. Allora le chiedo e concludo, Presidente, vi prego per una volta, mettete da parte l'ipocrisia. E' in memoria vera di quei morti ai quali lei è andato a rendere omaggio. Mettetevi al lavoro sul serio. Rendete le reti regionali davvero sicure, in maniera tale che sia un servizio pubblico vero per tutti i cittadini. Grazie, deputata D'Ambrosio.